Gustoso fuori salone della VIT, quello organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia in collaborazione con l'assessorato alle risorse agroalimentari. Abbiamo con la musica e con i nostri prodotti rappresentato un'idea della Puglia, che è quella anche di una terra ovviamente accogliente, una terra che con poco riesce a costruire tanto. Oggi si presenta il pancotto con alcune verdure tipiche, in fondo una cultura popolare che poi diventa l'emblema del nostro proporci a livello nazionale e a livello ovviamente internazionale. La presentazione di piatti tipici regionali si è accompagnata alla musica folk e al racconto dei territori. Giovedì 11 febbraio i Saperi di Puglia sono stati protagonisti al centro di Milano nell'open space in Kitchen Loft. Un viaggio gastrofonico popolare è stato il tema del cooking show curato dallo chef Domenico Cilenti col musicista Enzo Cavalli e il DJ Luciano Castelluccia. Una food experience per stampa specializzata, opinion leader, ristoratori e operatori del settore enogastronomico. Due le tappe saporite di questo straordinario percorso gastrofonico, la benedizione podolica con l'esaltazione e la descrizione del caciocavallo podolico come simbolo della più antica tradizione casearia pugliese e la trilogia del pane, panembus, acqua e sale, oggi pomodoro e santa spirit. Agli ospiti è stato donato un goloso gadget alle orecchiette di grano arso, variante povera di quelle classiche. Protagonisti dell'evento anche l'olio extravergine di oliva e il vino pugliesi. Grazie.